A Licata si continua a spalare fango dopo l'esondazione del fiume Salso di sabato scorso. Sui danni ammontano a svariati milioni di euro, soprattutto nel settore agricolo. Il deputato Cambiano chiede stato di calamità naturale. Femminicidio di Patrizia Russo, mercoledì ad Agrigento ai funerali dell'insegnante di 53 anni uccisa dal marito Giovanni Salamone che nel carcere di Alessandria ha tentato il suicidio, sventato dalla polizia penitenziaria. Emergenza droga si abbassa sempre di più l'età di chi fuma la cannabis, lo rivela la psicologa Katia Scorsone. responsabile del centro di ascolto per giovani e famiglie di Ribera che promuove iniziative di sensibilizzazione. L'intervento allo stadio è opera mia. Fabio Termine non ha riconoscenza. Francesca Valenti polemizza col suo successore, episodio che alimenta quello che ormai è un conclamato clima di scontro aperto dentro la coalizione. l'opposizione. Scalia volle i sciacca. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo dello scorso fine settimana. Montano a svariati milioni di euro i danni provocati all'Icata dalla bomba d'acqua di sabato scorso. Colpita soprattutto l'agricoltura con tantissime aziende distrutte che hanno perso non solo il prodotto ma anche gli impianti. Il fiume Salso ha sommerso ogni cosa e mentre si continua a spalare fango in tante zone della città è già stato chiesto alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'iniziativa è stata assunta dal deputato ed ex sindaco di Licata Angelo Cambiano. Sentiamo il servizio. Prosegue la stima dei danni a Licata, uno dei comuni siciliani maggiormente colpiti dal maltempo dei giorni scorsi. Si continua a spalare fango e si andrà avanti così almeno per un paio di giorni dopo che il fiume Salso è esondato in più punti. La foce nel momento della piena è arrivata a circa 8 metri d'altezza. Tra le maggiori criticità quella del mercato ortofrutticolo di via Gerretta completamente allagato e dove ieri sono entrati in azione due mezzi meccanici e quattro idrovore per aspirare acqua e fango. Oltre agli uomini della protezione civile, ai dipendenti comunali e a tanti volontari, anche i proprietari dei magazzini del mercato hanno collaborato alle operazioni insieme al sindaco della città Angelo Balsamo. Il fiume Salso ha sommerso ogni cosa. Le aziende agricole sono state completamente distrutte. Non hanno perso soltanto il prodotto ma anche le serre, i tunnel e tutti gli impianti. La piana di Licata, solitamente fertilissima, è diventata un lago con le colture e le serre completamente ricoperte d'acqua. Ma protezione civile, operai, volontari e cittadini, avvalendosi dai mezzi di spurgo, hanno lavorato anche in altre zone della città. Ci vorranno alcuni giorni prima di poter tornare alla normalità. Nelle concitate ore in cui sulla città si è abbattuta la bomba d'acqua, è dovuto intervenire anche un elicottero per mettere in salvo un uomo che era rimasto intrappolato sul tetto di casa e una famiglia rimasta intrappolata in auto. La situazione è drammatica e bisogna intervenire con urgenza perché il danno è di svariati milioni di euro, ha dichiarato il sindaco Balsamo, che ha già chiesto nell'emore di una quantificazione esatta dei danni il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Iniziativa assunta già dal deputato regionale Angelo Cambiano. È fondamentale attivare immediatamente le risorse necessarie e fornire aiuti concreti agli agricoltori e ai cittadini fortemente danneggiati, dichiara il nostro telegiornale l'ex sindaco di Licata. Intanto abbiamo compreso subito la portata dell'emergenza. Per fortuna non ci sono state vittime e questa è la cosa più importante. È chiaro che i danni però sono stati ingenti nelle diverse zone della Sicilia colpita dal maltempo e allicata in particolar modo l'esondazione del falso. Del falso ha creato devastazione nelle zone agricole. In città ancora si rimuove il fango, ma intera azienda agricole sono andate distrutte. Serve adesso la presenza del governo regionale, delle istituzioni a ogni livello per far ripartire questo comparto che è fondamentale per il nostro territorio. È innegabile, prosegue Cambiano, come l'inerzia del governo regionale nella pianificazione di interventi di messa in sicurezza del territorio abbia, negli anni, contribuito a determinare i gravi danni causati da fenomeni atmosferici estremi come quello dello scorso fine settimana che da tempo si susseguono con cadenza annuale e non possono certo dirsi inaspettati o imprevedibili. È emblematico il caso di Licata dove dal 2016 la maggior parte dei fondi stanziati dopo la devastante alluvione di quell'anno non sono stati ancora utilizzati. È chiaro però che se guardiamo al caso ad esempio Licata e guardiamo al cambiamento climatico e alle precipitazioni che si riversano ai territori in un arco temporale limitato, la politica non può stare a guardare e nello specifico per Licata erano state stanziate delle somme dei fondi POC, Programme Operativi Complementari che poi si sono perdute, poi assegnate alla protezione civile delle risorse e dal 2016 ancora attendiamo gli interventi. Quindi qualche responsabilità rispetto alla lentezza, rispetto alla mancata pianificazione e programmazione c'è da parte della politica. Non possiamo sempre intervenire in emergenza e intervenire in emergenza ha un costo maggiore sulla collettività rispetto a una pianificazione seria, alla polizia dei Canavoni, alla polizia degli Albe, alla messa in sicurezza del territorio che è fragile. Attentato il suicidio nel carcere di Alessandria dove è rinchiuso da mercoledì scorso Giovanni Salamone, il 61enne agrigentino che ha ucciso la moglie, l'insegnante Patrizia Russo. Sentiamo. Attentato il suicidio Giovanni Salamone, il 61enne agrigentino che ha ucciso la moglie Patrizia Russo di 53 anni nell'abitazione di Solero in provincia di Alessandria dove la famiglia si era trasferita. Approfittando della momentanea assenza del compagno di Cella, l'uomo ha tentato di impiccarsi con un lenzuolo. È fondamentale stato il tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Alessandria dove l'uomo è rinchiuso. La notizia del tentato suicidio venuta fuori nelle ultime ore risalirebbe a venerdì scorso. Giovanni Salamone si trova rinchiuso nel carcere piemontese da mercoledì scorso. Dopo aver ucciso la moglie, aveva chiamato le forze dell'ordine ammettendo quanto fatto poco prima. I suoi legali hanno annunciato che chiederanno una perizia psichiatrica. Pare che l'uomo soffrisse di uno stato depressivo da mesi in relazione ad alcune cartelle sattoriali ricevute per l'azienda agricola nel territorio di Agrigento. Intanto sono stati programmati per mercoledì prossimo alle ore 15.30 presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Madonna delle Rocchie ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo e sarà proclamato il lutto cittadino così come annunciato dal sindaco Franco Micichè. Venerdì scorso la comunità agrigentina si è stretta attorno ai figli della coppia in una veglia di preghiera in ricordo della donna ed è stata anche avviata una raccolta fondi per contribuire alle spese di trasferimento della Salma dal Piemonte alla Sicilia e ai funerali. Avrebbe prima minacciato i parenti dell'ex moglie per poi tentare di entrare nella struttura protetta dove la donna era stata collocata insieme ai figli in seguito alle ripetute violenze subite. Il GIP del Tribunale di Sciac ha disposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto anti-stalking nei confronti di un operaio 38enne agrigentino. L'uomo è indagato per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia una brutta vicenda caratterizzata da aggressioni fisiche e verbali ai danni dell'ex moglie. Quest'ultima lo scorso anno denunciò l'ormai ex compagno ai carabinieri raccontando le violenze subite, schiaffi, calci e pugni. Adesso un nuovo allarmante episodio prontamente bloccato dai militari dell'arma intervenuti dopo la segnalazione degli operatori della struttura. L'indagato, attraverso il suo legale, presenta la ricorso al Tribunale del riesame. È stata scarcerata due settimane dopo la condanna a otto anni di reclusione Silvana Sfortuna, la donna di Palma di Montechiaro, che aggredì e sfigurò il marito con l'acido, simulando poi un'aggressione ai suoi danni e facendola arrestare ingiustamente. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, a conclusione del processo con rito abbreviato, lo scorso 7 ottobre le ha inflitto otto anni di reclusione. Lo stesso giudice per l'udienza preliminare pronunciandosi sull'istanza dell'Avvocato Giuseppe Vinci Guerra, ha ritenuto che il tempo decorso la condotta processuale collaborativa e la defizione del giudizio di primo grado abbiano fatto attenuare le esigenze cautelari. La misura del carcere quindi è stata sostituita con i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il marito della donna è rimasto per settimane in ospedale in gravissime condizioni che ha riportato danni sparsi in tutto il corpo e si è costituito parte civile e ha ottenuto il diritto al risarcimento dei danni con un anticipo di 25 mila euro. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un pregiudicato di 37 anni del luogo per furto aggravato. L'uomo è stato notato mentre correva per le vie del centro con il volto travisato. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e trovato in possesso di circa 270 euro presumibilmente esportati poco prima dai distributori di coffee service e che è risultato essere stato danneggiato e ripulito del denaro contenuto. A seguito di perquisizione personale è stato inoltre recuperato e sottoposto a sequestro un coltello con una lama di 11 centimetri che l'uomo portava con sé. Nel suo confronto è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nuovi controlli del nucleo e spettorato del lavoro in Sicilia. Tre attività sono state sospese in provincia di Trapani. Si tratta di una pasticceria di Mazzara del Vallo, un negozio di ortofrutta di Castellammare del Golfo ed un bar di Alcamo. Sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Alle prime due attività sono state elevate sanzioni per circa 8.000 euro alla terza 2.000 euro e 2.500 euro. In provincia di Palermo i controlli hanno riguardato i settori dell'edilizia e dei pubblici esercizi. Due, i cantieri ispezionati e per entrambi è scattata la sospensione dell'attività. In un caso, per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, mancanza di protezione contro la caduta nel vuoto, nell'altro per lavoro nero. Un dipendente su due era senza contratto. Nel primo cantiere sono state elevate sanzioni per un totale di 5.400 euro nel secondo 5.800 euro. Sempre in provincia di Palermo è stata sospesa l'attività di un locale pubblico a termini merese dove è stata accertata la presenza di due lavoratori in nero. Un altro esercizio commerciale sempre a termini merese è stato sanzionato per violazioni in materia di sicurezza, sospensione dell'attività anche per un esercizio pubblico a Carini. Si abbassa sempre di più dai 13 ai 14 l'età di chi inizia la cannabis. Già a 13 anni molti ragazzi cominciano a fumare quest'erba. Lo dice oggi il nostro telegiornale Katia Scorsone, psicologa responsabile del centro di ascolto per giovani e famiglie di Ribera, località purtroppo segnata da diversi morti per overdose. Un centro di ascolto che opera grazie alle donazioni dei privati, una campagna di sensibilizzazione che si avvale adesso anche di un totem pubblicitario. Il punto in questo servizio. Tende ad abbassarsi sempre di più l'età di chi inizia a fumare la cannabis. Lo rivela il nostro telegiornale la dottoressa Katia Scorsone, psicologa responsabile del centro di ascolto per famiglie e giovani di Ribera, nato dopo le numerose tragedie di giovani morti per overdose che hanno visto le famiglie di Keila ed Alessio solo le ultime vittime ad operarsi per testimonare il proprio dramma e fare qualcosa perché altri non dovessero viverlo. Perché ci siamo accorti che comunque il primo accesso alle droghe è sicuramente la fascia dei 13-14 anni. Scusi, lei dice già da 13-14 anni i ragazzi sono... Il primo accesso alle droghe. Questo è un dato preoccupante. Che tipo di droghe? Per quella fascia d'età sicuramente la cannabis. Poi c'è la solita escalation, no? E poi sì che non è un percorso obbligatorio però tutta la storia poi delle dipendenze facendo poi un escurso si inizia sempre da quello. Tra l'altro abbiamo anche deciso di abbassare la foglia dei ragazzi a cui rivolgerci quindi non più solo dalle superiori in poi ma già nella fascia delle scuole medie. Un centro quello di ascolto situato in locali messi a disposizione della chiesa liberese in via Trionfo numero 6 accanto alla matrice. Un centro di ascolto nato sulla scorta dell'esperienza della Casa dei Giovani di Bagheria che ha iniziato questo percorso più di 30 anni fa. Noi non abbiamo mai abbassato né il livello di attenzione né le attività che presentiamo che abbiamo fatto. Già ora abbiamo un programma abbastanza intenso di attività rivolte soprattutto ai ragazzi quindi diciamo che la perdita di tante vite non deve essere comunque vana speriamo che possa risultare da esempio per qualcuno l'impegno delle famiglie che hanno deciso di metterci la faccia e non solo quella. Una struttura che opera grazie alle donazioni e non sono indifferenti quelle di chi non è coinvolto in una tragedia familiare di un soggetto tossicodipendente ma che prova a mettersi nei panni di chi invece la sta vivendo con un servizio di ascolto orientamento psicosociale attraverso numerosi incontri di sensibilizzazione nelle scuole la realizzazione di locandine dei plan informativi e infine ma non per ultimo un totem pubblicitario ubicato tra la via Inbornone la via Circonvallazione la via Canova un'iniziativa tutt'altro che simbolica perché è difficile anche fare avvicinare che ha bisogno è uno dei risultati che abbiamo raggiunto grazie anche alle donazioni delle numerose famiglie che devolvono diverse somme volontariamente al centro quindi per noi è una tappa significativa grazie alle famiglie al sostegno delle famiglie e dei servizi presenti nel territorio abbiamo raggiunto anche altri risultati come diversi incontri nelle scuole con l'attività di sensibilizzazione di formazione del centro perché ricordiamo sempre che comunque l'attività che facciamo è diretta sì alle famiglie che vivono il problema della dipendenza patologica ma anche comunque a tutta la comunità perché si possa avviare sempre un processo di sensibilizzazione C'è pudore nel presentarsi e chiedere aiuto qual è la situazione che lei ci può rappresentare? Sì allora sicuramente la resistenza ad accedere al servizio c'è perché comunque si teme il giudizio e il pregiudizio ovviamente noi cerchiamo di adottare tutte le attenzioni possibili nel garantire la privacy nel rispettare la delicatezza anche il disagio della persona quindi cercando di organizzare gli incontri in maniera tale che una famiglia non incontri l'altra quando questa viene questa necessità diciamo emerge ed è evidente molto spesso la richiesta viene sicuramente dai servizi e quindi o attraverso ad esempio la chiesa o attraverso altre famiglie che hanno già vissuto questa esperienza quindi dopo il primo accesso sicuramente poi l'incontro successivo e l'inizio del percorso è sicuramente poi tutto in discesa è ormai scontro aperto nella coalizione che amministra la città di Sciacca dopo le recenti critiche del deputato regionale Michele Catanzaro ieri l'ex sindaca Francesca Valenti ha accusato Fabio Termine di irriconoscenza avendo messo nel suo video messaggio social a proposito dei lavori completati allo Stato Guerrera che si è trattato di un intervento programmato e voluto dalla sua amministrazione in attesa della conclusione del caso certa sullo sfondo dello scontro sembra esserci la vicenda delle mancate dimissioni da consigliere comunale e dell'assessore Leonte il servizio di Massimo D'Antoni quello all'interno dello stadio è uno dei progetti e dei cantieri innumerevoli presenti in città e che nello specifico è stato finanziato per un importo pari a un milione di euro dai fondi del PNRR due video messaggi in due giorni su Facebook prima quello di soddisfazione per il finanziamento per il ripristino del Ponte Can Salamone ieri quello in cui esalta il valore dei lavori finanziati dal PNRR sullo stadio comunale Luigi Riccardo Gurrera lavori completati che hanno permesso proprio ieri all'Unitas Sciacca di tornare a giocare tra le vere mura amiche è un Fabio Termine sempre più social quello che negli ultimi tempi sta caratterizzando la sua comunicazione nei confronti della cittadinanza una fase che si inserisce però non solo e non tanto per reagire alla campagna di critiche mosse nei suoi confronti dall'opposizione cosa peraltro normale quanto in una difficoltà di rapporti che non vengono certamente più negati dai protagonisti tra il primo cittadino e il Partito Democratico quel Partito Democratico rappresentato in giunta da Valero Gulotta che è vice sindaca e almeno fino al 31 ottobre da Antonino Certa quest'ultimo negli ultimi giorni è tornato a Sciacca dal Piemonte dove lavora e c'è anche la sua firma in alcune delibere di giunta di recente approvazione dopo le dichiarazioni tutt'altro che tenere nei confronti dell'amministrazione in carica rilasciata al nostro telegiornale dal capogruppo all'Ars del PD Michele Catanzaro nelle scorse ore è tornata a farsi sentire l'ex sindaca Francesca Valenti la quale ripostando il video di soddisfazione di Fabio Termini a proposito della conclusione del lavoro e della riapertura dello stadio Gurrera parla di splendida notizia definisce trionfalistici toni con i quali l'attuale sindaco ha comunicato la notizia stessa evidenzia al tempo stesso l'avvocata e docente universitaria che il nostro sindaco scrive così testualmente ha volutamente omesso un piccolo particolare si tratta di lavori programmati dall'amministrazione Valenti e realizzati grazie ad un finanziamento ottenuto dall'amministrazione Valenti quanta amarezza parole durissime a cui Valenti aggiunge non credo nella riconoscenza ma ancora purtroppo confido nell'onestà intellettuale ancora una volta mi devo ricredere conclude Francesca Valenti per taluni la propaganda viene prima della verità per completare il quadro di erano si aggiunge la dichiarazione di Giuseppe Ambrogio consigliere comunale ex-lista Ferdinandea poi passato nel gruppo del PD noto aspirante assessore dopo l'addio di Francesco Sabella a cui però Fabio Termine come noto preferì Fabio Leonte vicenda quest'ultima che ha acceso le polveri di uno scontro tutto interno all'amministrazione trovo ingeneroso non attribuire meriti nei confronti di Francesca Valenti dice oggi Ambrogio il quale aggiunge che il finanziamento per il lavoro allo stadio è merito esclusivo dell'amministrazione Valenti troppe persone conclude stanno facendo propaganda politica forse iniziano a pensare alle nuove elezioni questo è il clima dentro una coalizione di governo dove volano gli stracci coalizione di governo che oltre a dover gestire la mancanza di numeri sufficienti all'interno di Sala Falcone e Borsellino adesso deve provare a porre rimedio a quella che sembra sempre di più una guerra interna come risolvere la questione politica al momento un mistero la presenza di Fabio Leonte dentro la giunta stando a quanto si può capire è stata una specie di dichiarazione di aperte ostilità da parte del PD e forse non tutto va ricondotto alle decisioni di Leonte di ribellarsi al diktat e di dimettersi da consigliere comunale questione questa che rischia però di tornare in primo piano perché se l'agenzia delle entrate non approverà la richiesta di Antonino Certa di essere trasferito in Sicilia per adempiere il suo ruolo di amministratore pubblico bisognerà nominare un altro assessore Certa peraltro ha lasciato lo scranno di consigliere comunale e Fabio Termini attende dal PD notizie su chi eventualmente gli succederà dentro la giunta ma dalla regola dello scorrimento della lista Michele Catanzaro non intende recedere serve questo evidentemente a idem per ribadire la loro profonda insoddisfazione per il caso Leonte i cui ripetuti interventi in aula in difesa dell'amministrazione ora da assessore ora da consigliere comunale avvengono nel silenzio talvolta assordante ma evidentemente evoluto degli esponenti del PD ed è questo un momento nel quale l'opposizione può anche rimanere in silenzio perché a farsi del male la coalizione Termine ci sta pensando da sola e in una nota diffusa nella tarda mattinata il circolo del PD di Sciacca a proposito dei finanziamenti di opere e infrastrutture prova a gettare acqua sul fuoco e parla di risultati il cui unico comune denominatore si chiama PD la riapertura dell'osteato Gurrera così come il finanziamento per la messa in sicurezza del ponte Can Salamone o anche la manutenzione stradale del verde pubblico e del patrimonio scrive il segretario Palagonia sono solo alcuni degli ultimi interventi realizzati attraverso un lavoro di continuità tra l'amministrazione guidata da Francesca Valenti prima e da Fabio Termine oggi PD che con i suoi assessori consiglieri e militanti e la presenza costante del deputato regionale Michele Catanzaro ha lavorato spesso in silenzio al fine di conseguire tali risultati ed è giusto per onestà intellettuale e coerenza politica ricordare che dietro a tali successi ci sono appunto anche donne e uomini del PD al contempo conclude la nota ci distociamo e condanniamo chi ancora oggi strumentalizza ogni azione per beceri i fini politici approfittando di chi non ha tempo voglia di informarsi su quello che ogni giorno viene fatto per amministrare al meglio la cosa pubblica ci fermiamo per una pausa ritornati in studio ci spostiamo a Santa Margherita di Belice i miei oppositori vogliono sfiduciarmi facciano pure mi fanno una cortesia ricorre ancora ai toni della sfida il sindaco di Santa Margherita Gaspare Viola lo ha dichiarato in una intervista rilasciata al nostro telegiornale in cui ribadisce i concetti espressi nel discusso comizio in piazza di qualche mese fa e tuttavia Viola non disdegna un abbassamento dei toni il servizio di Massimo D'Antoni in intervista di Tony Fisco Posso offrire me stesso non posso snaturare me stesso se poi i consigli di opposizione trovassero i numeri per fare una mozione sfiducia io l'ho detto possono accomodarsi a me fanno soltanto una cortesia perché la qualità della mia vita da quando sono sindaco è crollata in maniera verticale e continuerò a fare politica da cittadino non c'è nessun problema Sono parole di sfide ancora una volta quelle a cui Gaspare Viola ricorre nel commentare al microfono di Tony Fisco lo scontro politico degli ultimi tempi nel comune di Santa Margherita di Belice un conflitto politico che vede l'opposizione sulle barricate e che ha visto il sindaco parlare ai suoi concittadini dal palco di un comizio ribadendo le difficoltà economiche del suo comune ma il nostro telegiornale almeno apparentemente Viola prova ad abbassare i toni invocando quella che definisce necessaria corresponsabilità perché ci sono temi e problemi strategici oggettivi di questa comunità di questo paese che vanno affrontati insieme serve la collaborazione l'intelligenza e il contributo di tutti noi abbiamo trovato una situazione contabile molto particolare che è stata confermata è un dato di fatto non è una mia idea e non c'è in questo nessun attacco politico a chi mi ha preceduto nella maniera più assoluta L'opposizione in questo periodo è impegnata a sovvertire il voto democratico aveva detto durante il suo comizio il sindaco di Santa Margherita il quale ammette non ho molta dimestichezza con i social network C'è un'esigenza di comunicazione che dobbiamo assolvere ma insomma i modelli che vedo sui social mi tengono abbastanza lontano quindi è bene ogni tanto porre i puntini sulle i c'è l'idea che possa essere sovvertito con un atto di protervia quello che è stato un esito elettorale democratico chiarissimo che si è manifestato nel giugno 2022 una comunità democratica matura svolge il rito delle elezioni attraverso anche una dialettica forte è normale che ci siano contrasti eccetera però una volta superate le elezioni si lavora tutti insieme per il bene del nostro comune ma dopo che Gaspari Viola ha denunciato di aver trovato un comune fortemente indebitato il suo predecessore Franco Valente ha ribattuto annunciando a sua volta un comizio in programma sabato 26 ottobre alle 19.30 in Via Libertà Io spero che la libertà di coscienza in ciascuno possa far sentire la propria voce e possiamo trovare insieme gli spazi che sono molto più importanti fatti dalle cose che ci uniscono più che di quelle che si dividono ogni consigliere comunale ogni amministratore ogni cittadino è chiamato a produrre delle idee servono idee e serve l'impegno da parte di tutti ci saranno altre campagne elettorali altri momenti possibilmente persone che si sono trovate su posizioni contrapposte in questa stagione si ritroveranno insieme eccetera cioè occorre veramente un senso di responsabilità amministrare in questo comune comporta tutta una serie di difficoltà aggiuntive che potrebbero essere semplicemente evitate prevenute se nella misura in cui le persone fossero un attimino più consapevoli della propria dignità e della propria libertà personale e coltivassero il pensiero libero io ho una serenità interiore perché non sono mai sceso a compromessi con la mia coscienza e andrò avanti a testa alta insomma lo scontro politico sembra essere soltanto l'inizio capannoni del carnevale i consiglieri Blò e Bruccoleri insistono ritenendo contrariamente al parere dei competenti uffici del comune di Sciacca che non si possano utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno per pagare le rate del mutuo oggi hanno diffidato l'ufficio di regioneria e i revisori dei conti a ritirare il parere positivo espresso sulla delibera sentiamo hanno diffidato l'ufficio di regioneria e il collegio dei revisori dei conti a ritirare il parere favorevole espresso in relazione all'utilizzo di parte dei proventi dell'imposta di soggiorno per il pagamento delle rate del mutuo che il comune di Sciacca intende contrarre per la realizzazione dei capannoni per il carnevale i consiglieri Maurizio Blò e Raimondo Bruccoleri insistono sulla questione già dibattuta anche recentemente in occasione delle variazioni di bilancio e nonostante l'ufficio di regioneria abbia sostenuto l'esatto contrario ossia la legittimità della delibera il comune di Sciacca ha già inserito nel piano triennale nel bilancio il mutuo da 1 milione 800 mila euro per la realizzazione delle strutture da destinare alla realizzazione dei carri allegorici ed ha previsto di pagare le rate del mutuo 160 mila euro l'anno utilizzando parte dei proventi dell'imposta di soggiorno almeno per due anni con le variazioni di bilancio approvate la scorsa settimana è stata anche impegnata la somma di 96 mila euro per la progettazione esecutiva dell'opera Blo e Bruculeri hanno votato contro sostenendo che l'imposta di soggiorno è destinata a finanziare esclusivamente interventi in materia di turismo il pagamento della rata del mutuo per i capannoni non rientrerebbe a loro dire nella tipologia di finalità indicate ritengono dunque che sussiste il rischio che il comune venga censurato dalla corte dei conti o da altri organi di controllo e diffidano il responsabile dell'ufficio finanziario e il collegio dei revisori a ritirare l'espresso parere positivo in autotutela l'amministrazione comunale va avanti dopo le variazioni di bilancio approvate dal consiglio comunale adesso c'è da affidare l'incarico per la progettazione esecutiva dei capannoni che dovrebbero essere realizzati nell'area dell'ex galoppatoio ma soprattutto è necessaria una variante alla destinazione urbanistica del sito un impegno quello di realizzare le strutture necessarie per la realizzazione dei carri allegorici ribadito anche nel corso dell'ultima edizione del carnevale di Sciacca ordine del giorno suppletivo per il consiglio comunale di Menfi che torna a riunirsi stasera inserito il punto riguardante l'approvazione del regolamento per la concessione in uso dei locali comunali i lavori consigliari avranno inizio alle ore 20 e a causa di un guasto tecnico provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi a partire da oggi il PTA di Palma di Montechiaro sarà temporaneamente chiuso per consentire gli opportuni interventi tecnici tutti i servizi verranno ugualmente garantiti senza soluzione di continuità presso gli analoghi uffici del distretto dedicato all'interno dell'ospedale San Giacomo d'alto passo gli utenti già prenotati verranno contattati telefonicamente per una puntuale riprogrammazione degli appuntamenti i servizi di guardia medica pp adulti e pediatrico saranno disponibili presso i locali nel consultorio familiare di via Macca Caro è stata inviata oggi al Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale la bozza dell'atto di gemellaggio tra la città di Sciacca e la città spagnola di Santonia per un parere preliminare contestualmente è stata data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca e a tutti i consiglieri comunali per coinvolgere l'intera istituzione comunale in questo progetto di cooperazione internazionale a darne notizia l'assessore Francesco Di Mino e il Consigliere Comunale Alessandro Curreri questo progetto evidenziano Di Mino e Curreri rappresenta un importante passo verso la formalizzazione del gemellaggio tra le due città che si fonda su radici storiche comuni alla fine del XIX secolo le maestranze e saccensi così come la famiglia Oliveri e Giovanni Vella introdussero a Santonia le tecniche di salagione delle acciughe che contribuirono significativamente allo sviluppo economico e culturale del borgo spagnolo Sciacca e Santonia condividono una tradizione marinara e questo accordo può favorire lo sviluppo di collaborazioni tra le imprese locali soprattutto nel settore della pesca e dell'agroalimentare e stimolare il turismo delle radici concludono l'assessore Di Mino e il consigliere Curreri con la manovra finanziaria nazionale del governo Meloni è in arrivo l'ennesimo schiaffo al sud questa volta vogliono tagliare gli asili nido applicando un meccanismo che di fatto penalizzerà soprattutto la Sicilia cosa farà il presidente della regione Renato Schifani si piegherà ancora una volta al diktat romano e proverà almeno in questa occasione a difendere i diritti dei siciliani così il capogruppo del PD all'Ars Michele Catanzaro a proposito di un allegato al piano strutturale di bilancio predisposto dal ministro per l'economia Giancarlo Giorgetti che prevede tagli per gli asili nido al sud per quel che riguarda conclude Catanzaro i parlamentari nazionali del PD sono pronti a dare battaglia ci aspettiamo anche che il governo regionale abbia un sussulto di dignità e si attivi per evitare questo ennesimo taglio alla nostra isola nuovo progetto di mobilità studentesca per il liceo linguistico Erico Fermi di Sciacca sono arrivate in città infatti 24 studenti provenienti da Grecia Slovacchia e Ungheria che per una settimana saranno ospitati in famiglie del territorio il progetto ruota attorno alla conoscenza della lingua tedesca ed iniziative legate alla sostenibilità ambientale sentiamo questa mattina all'interno dell'auditorium e del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca sono stati accolti 24 studenti protagonisti di un nuovo progetto Erasmus provenienti rispettivamente da Grecia Ungheria e Slovacchia insieme ai loro accompagnatori l'iniziativa in particolar modo riguarda gli studenti del liceo linguistico e la conoscenza della lingua tedesca lo scambio culturale proseguirà per una settimana con un programma che ruoterà attorno ad una tematica di primaria importanza come quella della sostenibilità ambientale le emozioni di questo scambio culturale nelle parole di due studentesse del liceo linguistico questo progetto per noi appunto è molto importante in quanto all'unità del liceo linguistico poiché per noi è la prima volta che ospitiamo appunto questi tre paesi quindi Grecia Slovacchia e Ungheria ed è molto importante perché appunto grazie a questo entriamo a far parte entriamo in contatto con delle culture comunque con un nuovo stile di vita sia per noi ma anche comunque per le nostre famiglie e quindi conosciamo cose che prima comunque non avevamo avuto modo di conoscere e anche io sono molto contenta e sono molto emozionata di far parte di questo progetto perché è la prima volta che ricevo a casa mia degli studenti appunto dalla Slovacchia Ungheria e dalla Grecia o comunque degli studenti esteri e quindi sono felice di fare delle nuove conoscenze in questo progetto tratteremo della sostenibilità che è comunque un argomento molto importante e siamo felici anche perché per la mobilità che poi faremo negli altri paesi dell'Europa perché avremo la possibilità di conoscere nuove persone nuove culture ed è un progetto molto importante per noi il progetto si snoda su due anni scolastici è iniziato nel luglio scorso con la mobilità dello staff i rappresentanti docenti del mio staff sono stati già a Budapest in Ungheria e continua con la mobilità studentesca in rotazione otto dei nostri alunni per ciascuna nazione ruoteranno e saranno ospitati dalle famiglie degli alunni dei paesi partner inoltre poi alla fine del progetto è prevista anche una mobilità complessiva a Strasburgo sede del Parlamento europeo questi studenti quali attività svolgeranno al liceo qua in Italia? il titolo del progetto che è ripeto in lingua tedesca tradotto sarebbe plasmare il mondo e il futuro in maniera sostenibile e guidare il cambiamento quindi la tematica è quella della sostenibilità ambientale che quanto più di attuale si potesse scegliere il green inteso come comportamenti responsabili dei cittadini e come miglioramenti anche nella società e nel mondo intero i ragazzi attueranno dei laboratori nella nostra scuola il tema e il focus sarà centrato sull'acqua sull'elemento naturale acqua e poi si sposteranno nel territorio visiteranno le terme acquapia per esempio a Montevago la diga del lago Arance saranno opportunamente guidati poi saranno al molo trapezio dalle a Palermo effettueranno un laboratorio con mare vivo a sferra cavallo poi alla valle dei temple giardino di collinbetra insomma un percorso ricco nutrito di attività che li porterà a chiudere poi a fine settimana qui a scuola per un evento conclusivo e comunque iniziale di questa mobilità studentesca che continuerà a febbraio in Slovacchia poi in Ungheria quindi in Grecia e si concluderà come ho già detto a Strasburgo questo diciamo che è il quarto progetto in lingua tedesca del liceo linguistico Enrico Fermi di questo sono molto orgogliosa e credo che anche i ragazzi siano molto contenti di questi progetti Erasmus che si ripetano negli anni questo progetto di quest'anno è particolarmente importante interessante perché non soltanto perché appunto si acquisiscono delle nozioni didattiche ma anche perché insomma noi abbiamo anche dei fondi per realizzare in concreto per esempio un ambiente noi parliamo della sostenibilità quindi si realizzeranno appunto un ambiente sostenibile per cui insomma i ragazzi potranno fruire di questo ambiente che verrà comunque finanziato dai fondi della comunità europea insomma sarà una settimana piena di emozioni piena di stimoli noi ci siamo impegnati al massimo con la preside con il team con la collega affinché insomma tutto possa svolgersi nel migliore dei modi è andata bene l'iniziativa biscotti senza frontiere la raccolta fondi di emergenza promossa da medici senza frontiere è destinata all'acquisto di kit di primo intervento in favore delle popolazioni vittime del conflitto meridionale e dell'Ucraina l'associazione Unitredi sciacca preseduta da Alberto Sutera che ha curato l'evento in città oggi ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa il gruppo scout sciacca 1 e sciacca 2 l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Salvatore Mannino che ha concesso l'uso dell'atro inferiore del comune dove è stato allestito il banchetto operativo gli alunni delle scuole e tutte le persone che con spirito di solidarietà e di amore verso il prossimo hanno risposto all'iniziativa che ha avuto un eccellente esito già alla fine della prima delle due giornate previste per la manifestazione nazionale l'associazione ha distribuito tutte le scatole di biscotti a disposizione e adesso vediamo il libro che vi consigliamo da leggere che cosa succede quando moriamo cosa accade alla nostra coscienza sopravvive alla morte cerebrale queste domande si sono imposte impetuosamente a Stefan Alex nel momento della morte del fratello da allora mobilitato tutte le sue capacità e il suo istinto di giornalista per cercare di fare luce sugli enigmi della coscienza umana attraverso un percorso durato oltre 15 anni le ricerche mediche neuroscientifiche esaminate dall'autore così come gli innumerevoli fenomeni spiegabili legati alla morte che ha avuto modo di investigare lo hanno portato a stabilire che la nostra coscienza ha una dimensione spirituale che trascende la mera fisiologia del corpo è forse ciò che i mistici di tante diverse culture chiamano anima grazie al suo instancabile lavoro di ricerca sul fronte scientifico unita a un'esplorazione spirituale profondamente toccante Stefan Alex è giunto a formarsi l'intima convinzione che la nostra coscienza non si riduce alla nostra attività cerebrale un potente messaggio di speranza che in queste pagine condivide con tutti i lettori e le lettrici la morte non esiste un'inchiesta scientifica un viaggio spirituale le prove della vita oltre la vita di Stefan Alex edito Harper Collins calcio pareggio amaro per l'unità se sciacca contro la capolista atletico Palermo 1 a 1 il risultato finale con i padroni di casa raggiunti soltanto in pieno recupero dai palermitani noroverdi che ancora una volta protestano contro la direzione arbitrale e la gestione del match da parte dell'arbitro Azzolina 4 punti di ritardo dei saccensi nei confronti della testa della classifica ossia le due mancate vittorie contro Castellammare e Palermo entrambe frutto di gravi errori arbitrali a danno dell'unità se c'è il servizio pareggio è tanto amaro in bocca per l'unità si sciacca che ha impattato per 1 a 1 contro l'atletico Palermo capolista del campionato di eccellenza e vera e propria corazzata del torneo un pareggio maturato soltanto in pieno recupero con i padroni di casa che sicuramente avrebbero meritato i tre punti e di festeggiare con una vittoria il ritorno in campo all'interno dello stadio Urrera il tecnico Angelo Galfano ha dato spazio dall'inizio a quella che ormai viene considerata la sua formazione tipo con Cheba in porta Cipolla a guidare la retroguardia e Concialdi in regia in avanti il trio composto da Galfano Erbini e Niosi con quest'ultimo che poi causa infortunio ha dovuto lasciare terreno di gioco sul finire della prima frazione sostituito da Mistretta primo tempo con netta supremazia da Nero Verdi in vantaggio già al diciannovesimo minuto con D'Amico che ha suggellato una bella azione e il predominio dei padroni di casa per i saccensi ritmi alti fraseggi stretti e occasioni a ripetizione con la partita che resta però soltanto sull'1-0 ad inizio ripresa è la traversa negare a Concialdi la rete del 2-0 per l'Unitas sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite nel secondo tempo i ritmi calano un po' seppur gli ospiti quasi mai si rendano pericolosi dalle parti di Gabà a parte qualche palla inattiva nei minuti di recupero la beffa su una punizione laterale arriva il pareggio dei palermitani con Giuliano che immischia la tocca quanto basta di testa per superare il portiere di casa un pari ormai sperato per gli ospiti e al termine della partita esplode la protesta del tecnico Angelo D'Alfano che si è ampiamente lamentato sia dal calcio di punizione da cui è scaturito il pari degli ospiti punizione dovuta ad un presunto fallo ritenuto inesistente sia per la gestione dei cartellini da parte dell'arbitro Azzolina considerata eccessivamente severa nei riguardi della squadra di casa l'unità se sciacca con 10 punti in classifica resta imbattuto nei pressi della zona playoff e con 4 punti di ritardo rispetto alla testa del torneo occupata da Atletic Palermo e San Giorgio Piana con 14 punti saccensi che avrebbero meritato finora qualche punto in più ma c'è ancora tutto il tempo per recuperare è stato presentato ieri sera l'organico dello Scalia Volley Shack sodalizio che disputerà il campionato nazionale di serie B a guidare la squadra lo staff diretto come sempre da Enzo Graffeo il torneo prenderà il via ufficialmente domenica prossima con i saccensi impegnati in casa contro il Palermo Scalia Volley che punterà alla salvezza ne parliamo nel servizio è stata presentata ieri sera presso l'atrio superiore del comune di Sciacca Scalia Volley la squadra saccense che dal domenica 27 ottobre scenderà in campo nel campionato nazionale di serie B le partite casalinghe saranno disputate nuovamente al pallone tenda Nino Roccazzella riaperto dopo alcuni anni ed interventi di riqualificazione l'obiettivo stagionale dichiarato dalla società è la salvezza da neopromossi i saccensi puntano a fare esperienza e a rimanere poi stabilmente in un campionato nel quale hanno militato con ottimi risultati negli anni 90 nel corso della presentazione condotta da Giuseppe Recca oltre a dirigenti e tecnici del sodalizio sportivo sono intervenuti pure il sindaco Fabio Termine e l'assessore allo sport Valeria Gulotta entrambi hanno evidenziato la grande attenzione che l'amministrazione comunale sta riservando allo sport cittadino e in particolar modo agli impianti pubblici dopo la riapertura dello stadio Gurrera e del pallone tenda infatti adesso si punta chiaramente all'apertura della storica incompiuta piscina comunale di Contrada Perriera da evidenziare ieri sera anche la presenza di tanti ex giocatori del volley club Sciacca tra cui Tani Frinzi Russo oggi tecnico dell'Alpapiro Fiumefreddo una delle avversarie dei seccensi in serie B l'organico di Scalia Volley è stato costruito puntando sui giovani e sui ragazzi del vivaio i nuovi innesti sono rappresentati unicamente dai pugliesi Lorenzo De Matteis e Francesco Carcagnì dal veneto Francesco Tuis e da Luca Catalano proveniente dal Mazzara la squadra come è noto ha cominciato la preparazione ad inizio settembre e ha disputato due amichevoli con il Palermo la stessa squadra che Scalia Volley affronterà domenica prossima nella prima di campionato un torneo lungo e difficile che prevede pure sei trasferte nel Catanese e tre in Calabria contro Bisignano Biubo Valencia e la Mezza Eterna e siamo al termine di questa edizione del nostro telegiornale grazie ancora una volta per essere stati con noi appuntamento alle prossime e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi